Allora, io dico semplicemente grazie a voi, a quello che fate, a questi ragazzi meravigliosi che hanno cantato per qualcuno che forse sta vivendo un momento molto difficile. Facciamo presto a dimenticarsene, no? Quindi grazie a questa associazione del nostro territorio teniamo vivo il ricordo, perché non è perché non se ne parla più che i problemi sono risolti, anzi, quindi da parte nostra c'è quello che possiamo fare, ma è un pezzettino piccolo, per cui, come dicevi Caterina, magari invito tutti a mettere nella busta un po' dei nostri soldini proprio come segno di generosità e di sostegno a questi progetti. Vi porto il saluto di Bruno Natale, che è lassù, dell'assessore Elisa Frassonna, del consigliere Bardin e non per ultimo di Eno, che degli altri colleghi che non sono potuti venire, perché veramente hanno molto a cuore questo progetto. Per cui quello che possiamo fare è volentieri. Grazie a voi e a tutti, grazie a voi ragazzi che siete stati meravigliosi, grazie di cuore. Direi che possiamo chiudere, ma vedo che non avete voglia di andare a casa, basta, mi dicono. Se volete vi faccio il saltarello. Ci sono i bambini che sono stanchi, perché se volete no, basta.